E' una tradizione ormai che non può assolutamente essere superata e non c'è San Martino che tenga se non c'è la festa del vino nuovo di Pietra Torcia. Gino, allora quest'anno come è andata? Che annata è stata? Quest'anno è stata un'annata molto difficile, il tempo specialmente del pre-testino è stato clemente e noi sinceramente rispetto al nord siamo stati molto più fortunati e per questo abbiamo avuto delle produzioni alterne con delle vendemmie eccezionali alternate a vendemmie normali. Però nel complesso è stata un'annata buona e secondo me sarà un'annata che per alcune produzione è da ricordare. E descrivici il vino che gli amici, come solito tantissimi, non solo isolani, sono venuti a gustare in questo pomeriggio di metà novembre qui su dall'alto di Forio. Come ogni anno troviamo fuori il rosso novello che fa parte di questo vino che è il Tifeo che noi produciamo che è un rosso in cui c'è un po' di permeazione carbonica e che noi facciamo apposta anche per poter degustare insieme a tutti i nostri amici. Il vino in genere è un po' acerbo in questo periodo qua, però questo vino qua si sposa bene soprattutto con le castagne che non possiamo far mancare. Tra l'altro oltre alle castagne, quelle belle cotte al momento, c'è tanta roba preparata sempre dai soliti amici, le bruschette che non mancano mai, ma tanti dolci, tanti rustici. Quindi è una vera e propria festa di famiglia come le vecchie feste contadine. Sicuramente l'interazione tra le famiglie è una cosa che non può mancare perché spoglierebbe questo evento della familiarità che è l'elemento principale. Qui più che a un evento si va a un incontro di famiglia in cui tutte le persone si salutano senza problemi di etichetta. Tra l'altro la famiglia è allargata, lo diciamo, anche tanti turisti che scoprono di questa iniziativa e che arrivano qui e trovano le porte aperte, tanta buona roba da gustare e tanti amici veramente come se si conoscesse da sempre. Soprattutto, Simearino, il fatto che la roba sia gratis, ma appunto è gratis perché è gratis il calore che vogliamo offrire in questa giornata sicuramente. C'è poi il momento di benedizione importante, quindi che tipo di cosa positiva possiamo aspettarci per i prossimi mesi, per la prossima annata? Che cosa state preparando? Sicuramente vogliamo, stiamo facendo un lavoro sempre di rinnovamento dell'azienda, cerchiamo di recuperare ancora i vigneti dopo un periodo difficile. Siamo in un periodo in cui la flavescenza e la mal dell'esca, che sono malattie endemiche in Italia, purtroppo hanno colpito la nostra isola, che è un po' dimenticata l'istituzione da questo punto di vista. Noi stiamo cercando di fare un lavoro di recupero, non solo nei nostri vigneti, ma anche interagendo nella sensibilità delle persone. Non ultimo, da quest'anno abbiamo, stiamo passando al biologico, la nostra azienda, appunto per creare uno specchietto, diciamo, di richiamo, che è già stato iniziato da altre aziende, qui a Ischia, che poi vogliamo dare un eco più importante.